Nasce a Sassari il primo festival internazionale noto e senza tempo, un progetto ambizioso che si propone di candidare la città a capitale del Mediterraneo per la valorizzazione e la diffusione della musica antica. In programma a 7 eventi la partecipazione di oltre 80 musicisti di fama internazionale è una masterclass di grande richiamo. Ma sono i giovani il vero motore della rassegna, presenti sia in fase ideativa che come interpreti e concertisti. Una sinergia, quella tra il mondo adulto e quello young, che assume particolare rilevanza nella collaborazione tra i conservatori di Sassari e Cagliari, presenti nel cartellone con due iniziative di rilievo. E' stato il direttore artistico della rassegna, Calogero Sportato, a presentare stamattina il numero zero di noto e senza tempo nella sala convegni della Fondazione di Sardegna, goal sponsor del festival. Sportato ha voluto sottolineare come il progetto intenda valorizzare i luoghi storici sassaresi, che saranno teatro dei concerti come le chiese di Santa Maria di Betlem e della Madonna del Rosario. La vicepresidente della Fondazione Sardegna, Angel Mameli, ha rimarcato come note senza tempo possa essere l'occasione per costruire orizzonti più ampi con realtà internazionali in un'ottica di autopromozione della città. Il neo assessore della cultura Rosanna Arru nutre la speranza che l'iniziativa possa replicarsi anche in futuro. Intanto, dopo un mese di mandato, traccia un'idea di nuova politica culturale da applicare a Sassari. Ho un quadro più chiaro, ma non è un quadro che mi piace. È un quadro che chiede rinnovamento, costruzione, iniziative di rincoraggio, committenze, e committenze anche private pur di risvegliare quella che è la politica culturale in città. Incominciamo ad avere degli obiettivi a breve e a medio termine, delle ambizioni a lungo termine. Stiamo mettendo a fuoco, iniziando a cercare interlocutori importanti. La sede in cui mi ritrovo è una di quelle più grandi possibilità che noi avremo di lavorare con la Fondazione per iniziative importanti per la città. Grazie.